Buongiorno a tutti, iniziamo. Siamo alla presentazione del, come vedete, del portale Easy PNR Marche. Come abbiamo evidenziato, il portale Easy PNR Marche è uno strumento che ha una doppice finalità, è chiaramente per gli stakeholders, ma principalmente è destinato ai cittadini per dare informazione sullo stato dell'arte del PNR a livello regionale. Ma è anche, la seconda finalità è anche un contenitore di strumenti e documenti per il supporto di soggetti attuatori degli interventi. Quindi, poi lo sentirete nel mio intervento, che non è il portale, non è l'unico strumento che potrà fornire sostegno agli antiatuatori, sia quelli regionali che agli antilocali, che si trovano in prima linea sull'attuazione nel monitoraggio e nella rendicotazione degli interventi del PNR. L'altra attività, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, l'altra attività di supporto garantita dalla Regione, è quella effettuata nell'ambito del progetto PRR denominato Mille esperti. Questo è molto importante, perché è coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha consentito di selezionare 30 esperti. Lo ricordo che questo varrà per gli anni 22, 23 e 24. Avremo 30 esperti, due saranno esperti che coordinano il gruppo e fanno parte della Segreteria Tecnica, 23 saranno i tecnici settoriali e 5 gli orizzontali. Poi, andando avanti nel mio intervento, vi spiegherò le loro funzioni. I 23 esperti tecnici settoriali sono impegnati sulle seguenti linee di intervento. Infrastrutture digitali, appalti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, bonifiche e rifiuti, energie rinnovabili, urbanistica ed edilizia. Vedete quanti settori. In questi ambienti, gli esperti svolgono un'attività di supporto alle strutture regionali, caglienti locali e assegnatari degli interventi, al fine di individuare ed eliminare i cosiddetti colli di bottiglia nelle procedure del PNRR, individuate nel territorio. e predisporranno strumenti metodologiche, linee guida e documenti di approfondimento disponibili sul sito Easy PNR, quello proprio che stiamo presentando oggi, ed effettueranno incontri sul territorio per informare i soggetti attuatori e discutere delle criticità. Altro aspetto del quale teniamo noi come Regione Marche in debita considerazione sono i comuni. Sappiamo bene quanti comuni non hanno le professionalità, specialmente tanti piccoli comuni non hanno le professionalità per poter chiaramente spiegare ai propri cittadini il percorso di un'eventuale domanda del PNR. di presa resilienza. Quello che ci siamo posti come obiettivo è non ripetere gli errori del passato, questo era importante. Chiaramente tutto fa esperienza, migliorare tutte le misure che erano state intraprese e portate avanti, e poi io ritengo che bisogna adeguarsi anche ai tempi che stiamo vivendo e cercare di migliorarli. Ma comunque io sono convinto, forse appartenendo ad un'altra generazione, che il rapporto umano è importante, quindi mettere a disposizione dei comuni, degli esperti che li possono coadiuvare e aiutare nel monitoraggio, nella prosecuzione dei lavori, nella rendicontazione finale sia fondamentale. Un altro passaggio importante nostro regionale è quella che riguarda la contrattualistica pubblica, infatti come regione tramite la sua abbiamo messo a disposizione dei comuni altri sei esperti che si occupano degli appalti pubblici, lo sapete che c'è il nuovo codice dei contratti, degli appalti pubblici, e quindi sicuramente questi coadiuvideranno ed aiuteranno i RUP e i segretari comunali, e già c'è stato un incontro, abbiamo avuto un primo incontro, ovvero dottor Pellei, con i segretari comunali RUP per portare a conoscenza tutte le novità del piano nazionale ripresa e resilienza. e l'abbiamo già concluso. Tutta questa documentazione che abbiamo esposto ai RUP e ai segretari comunali è disponibile sull'ISI PNRR che stiamo presentando oggi. In aggiunta a queste misure, messo in campo direttamente per la Regione per supporto agli enti locali, abbiamo attivato altri soggetti, nelle fasi di attuazione dei progetti, nelle fasi di monitoraggio, renticotazione e controllo. Tale attività viene articolata su base regionale tramite presidi territoriali. Mi riferisco in particolare, oltre a quelli che vi ho detto, ai 23 più i 5 orizzontali, mi riferisco in particolare alle ragionerie territoriali dello Stato che hanno costituito presidi territoriali unitari per supportare le amministrazioni locali nelle procedure che dicevo di monitoraggio e rendicontazione delle misure del PNR attraverso il portale Regis, che ve lo ricordo, lo sapete già, ma il portale Regis è un portale nazionale. Analogamente a questo, il potenziamento abbiamo, come ho detto prima, quindi gli orizzontali, le ragionerie territoriali, ma anche abbiamo chiaramente potenziato per il potenziamento, è in corso l'attività di potenziamento degli organici delle prefetture regionali tramite assunzione di personale dedicata al supporto degli enti locali in attuazione dei progetti del PNR. Al fine di perfezionare la collaborazione con i presidi territoriali si sono tenuti già incontri di coordinamento tra le Regioni, le prefetture e le ragionerie territoriali e questo sarà un nostro compito chiaramente periodicamente incontrare tutti questi, sia le ragionerie che le prefetture. In conclusione, colgo l'occasione per ricordare che, ve l'ho detto prima, i 23 più 5 più 2 esperti tecnici che i 5 esperti orizzontali, oltre ad aver lavorato alla realizzazione del portale, forniranno un quadro completo degli strumenti attivati per supportare l'attività di monitoraggio e rendicotazione del controllo. Proprio su questo, con queste persone, abbiamo chiaramente organizzato una giornata formativa rivolto agli amministratori locali. Chi potrà verrà in questa sala, qui a quinto piano del Palazzo di Madù, chi non potrà si collegherà con chiaramente in videoconferenza. Benvenuto l'assessore Santamartini. e questo è rivolto ai segretari e anche ai RUP, sempre per gli interventi del PNRR. La riunione con l'elenco che vi ho appena dato è stata convocata per il prossimo 18 maggio alle ore 9. Io per il momento ho concluso. Dottor Pellei, grazie. Buongiorno. Come ricordava l'assessore Brandoni, questo portale è sostesso un prodotto del PNRR e risponde a un obiettivo importante che caratterizza tutto il PNRR, cioè quello di semplificazione e monitoraggio. si inquadra infatti all'interno di un'iniziativa specifica del PNRR che è coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che è una misura 1, componente 1, che attua task force di digitalizzazione, monitoraggio e performance proprio per cercare di supportare gli enti locali, le regioni, le amministrazioni pubbliche in generale nel meccanismo di attuazione ma anche monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Quindi questo strumento, il portale, è uno degli strumenti che insieme proprio alla presenza fisica di soggetti, di esperti, insieme ai presidi territoriali, insieme a tutte le misure che comunque garantisce anche il Governo nazionale tentano di rendere più utilizzabile, fungibile e favorire l'avanzamento di questo programma che l'importo è significativo. Ci sono tutti i giorni avvisi sull'entità e le somme e quindi c'è bisogno del supporto e dell'aiuto di tutti per favorire l'avanzamento di questo programma. Questo sito, uno degli obiettivi è proprio anche questo, di essere uno strumento semplice e trasparente rivolto sia ai cittadini con una funzione che invece, oltre a questo di trasparenza rivolta ai cittadini, ha anche una funzione di supporto tecnico con una specie di base dati e tutta una serie di linee guida, documentazione, che serve per aiutare, supportare i soggetti attuatori, sia la Regione, sia gli antilocali, nell'avanzamento dei progetti PNRR. Il portale integra più fonti informative, questa è stata un po' la difficoltà, perché riuscire a raccogliere in un unico contenitore tutto quello che ricade sul territorio regionale, perché questo è l'obiettivo, è quello di fornire una fotografia aggiornata e dinamica, perché come vedremo i numeri, i progetti inseriti, le somme, cambiano e aumentano di giorno in giorno nel momento in cui diciamo le misure, gli interventi vengono regionalizzati e quindi assegnati alle regioni. Quindi le fonti informative, dicevo, sono almeno tre. Abbiamo il portale nazionale Regis, che ci consente di avere informazione nel momento in cui il progetto è già stato inserito come CUP e viene monitorato l'avanzamento, quindi in una fase di monitoraggio avanzato. Gli atti nazionali di riparto, nel momento in cui le risorse prima presenti a livello nazionale vengono distribuite dalle regioni, ma ancora non corrispondono a progetti, ma sono dei riparti regionali e le informazioni, molto importante e prezioso questo, fornite direttamente dai dipartimenti regionali, che spesso hanno informazioni, conoscenze settoriali per i propri settori e che quindi alimentano direttamente il portale. Quindi c'è stato anche un grande lavoro da parte di tutti i dipartimenti regionali interessati che hanno individuato una serie, una rete di referenti. Dicevo che il portale è dinamico perché continuano le cifre ad aumentare e ad incrementarsi. Un esempio, al momento, per la parte del programma nazionale complementare che è presente anch'esso all'interno di questo portale, il PNC, erano censiti circa 350 milioni di euro e con il riparto che è stato effettuato ieri, la notizia era oggi sui giornali, delle risorse del PNC Sisma per la parte imprese, ci sono ad esempio ulteriori 161 milioni di risorse per la regione Marche che dai prossimi giorni verranno inserite sul portale. Quindi diciamo che questo è un meccanismo dinamico che ci fa vedere, poi lo vedremo direttamente attraverso le torte quello che è l'assegnazione delle risorse per missione e per componente alla regione Marche. Ultima notazione, è presente anche un help desk, un supporto informativo che è garantito dalla struttura dello Europe Direct Marche, un altro ufficio regionale che può fornire informazioni sia sul portale sia nello specifico sul PNRR. Lasciare la parola alla dottoressa Carota. Troviamo in questa slide abbiamo intanto quello che è il link breve per accedere al portale Easy PNRR e abbiamo detto che confluiscono in questo portale numerosi fonti informative e al fine di coordinare le varie attività è stato istituito proprio un gruppo di lavoro con decreto del segretario generale per coinvolgere su questa attività tutte le strutture che hanno un ruolo fondamentale per il PNRR per quanto riguarda il portale come ha detto prima Andrea Pellei è uno strumento di lavoro quindi si rivolge sia proprio agli addetti ai lavori che fanno parte degli enti locali sia dall'altra parte ai cittadini perché possano avere un quadro di riferimento di tutte le complesse attività che si svolgono sul territorio per il PNRR e fa parte della cosiddetta agenda per la semplificazione in questo portale si è cercato di raccogliere tutti quegli strumenti di facilitazione che magari erano disponibili su tanti portali e quindi trovate in un link a sinistra del portale che ha proprio il nome mappatura degli strumenti tutta una serie di strumenti che agevolano il lavoro e che forniscono delle informazioni di dettaglio e in alcuni casi trovate un link come avviene ad esempio nel caso del glossario o delle facche o trovate delle parti che sono proprio redatte direttamente dagli esperti che fanno parte del gruppo di lavoro abbiamo detto che il portale è qualcosa che cresce ed evolve con il tempo e l'assessore ha già convocato una riunione rivolta a tutti gli enti locali proprio perché noi daremo i contenuti proprio in base ai bisogni che verranno dal territorio quindi diciamo che partiamo oggi con un processo di condivisione per far evolvere ed è una non una vetrina ma ripeto una strumento di lavoro è anche importante uno strumento di controllo per i cittadini per quanto riguarda la parte di monitoraggio attualmente è stato implementato all'interno di Regione Marche proprio su specifica indicazione diciamo del presidente dell'assessore competente diciamo della giunta uno strumento di monitoraggio che è rivolto a tutte le strutture che sono responsabili di attuare degli interventi delle PNRR questo monitoraggio è contenuto in un sistema gestionale che è sviluppato all'interno e si traduce poi nella nella visualizzazione di tutti questi dati nella forma di diciamo di torte a questo sistema di monitoraggio che come è indicato qui è uno strumento di monitoraggio in tempo reale perché i dati che sono inseriti dalle strutture regionali quindi dai vari RUP vengono poi pubblicati nel nel portale contemporaneamente vengono sono contenuti anche i dati che noi estraiamo dal sistema nazionale Regis e chiaramente questi questi dati come sanno gli addetti ai lavori hanno delle cadenze temporali quindi non sempre sono in tempo reale ogni diciamo ogni misura del PNRR ha un suo time di monitoraggio è in fase di realizzazione uno strumento di cooperazione applicativa cioè di andare a leggere direttamente i dati da Regis proprio per diminuire anche gli oneri in capo alle varie strutture per il monitoraggio trovate poi tutte le sei missioni delle PNRR e qui ho indicato la missione uno che è quella specifica che riguarda la digitalizzazione e lì troverete tutte le misure della digitalizzazione che variano appunto dai vari campi dal turismo alla sanità giusto per renderci conto di cosa include la misura uno quali sono gli altri strumenti che sono stati messi in campo e sicuramente sono quelli che interessano più i nostri i nostri enti gli esperti mettono a disposizione la loro collaborazione o per gli appalti o per le varie procedure complesse e tramite un sistema regionale che i comuni conoscono che è quello di procedi marchi è possibile prenotare un appuntamento quindi è possibile verificare per i vari esperti qual è la disponibilità a prendere un appuntamento riteniamo poi molto importante la possibilità di esprimere un feedback cioè di dire se il supporto che abbiamo avuto è stato utile oppure no e quindi per ritararci su questo qui vedete quello che trovate le varie linee di intervento che ha descritto all'inizio l'assessore con la possibilità di poter prenotare un esperto per avere ad esempio un supporto per un appalto pubblico importante lasciare la parola all'esperta buongiorno io mi chiamo Cristina da Milano e faccio parte appunto della task force monitoraggio nell'ambito del progetto mille esperti di cui abbiamo sentito già parlare quello che volevo raccontarvi è la struttura del portale che in realtà è suddiviso in due macro aree abbiamo da una parte delle sezioni informative che servono appunto a dare elementi relativi al quadro di riferimento normativo e tecnico strumentale e poi abbiamo parallelamente invece una sezione dedicata al monitoraggio dei dati con una serie di rappresentazioni grafiche relative alle risorse del PNRR sul territorio marchigiano le sezioni informative sono strutturate in una duplice maniera da una parte abbiamo alcune di queste sezioni che sono alimentate in maniera automatica quindi si basano su una serie di automatismi di collegamenti a siti nazionali e di riferimento sul PNRR dai quali attingiamo direttamente una serie di informazioni e di strumenti di collegamento a strumenti dall'altra sono invece alimentati da un lavoro di studio analisi e rielaborazione sotto forma di guide sotto forma di linee guida anche in alcuni casi da tutte le persone che hanno lavorato e che continueranno a lavorare al portale perché ecco ci tengo a sottolineare il portale è un work in progress sarà continuamente alimentato non solo ovviamente per quel che riguarda la parte dei dati ma anche per quel che riguarda la parte informativa quindi ci sarà un lavoro costante e continuo c'è una prima parte che è la cosiddetta home page nella quale abbiamo elaborato contenuti relativi a tre argomenti principali si racconta che cos'è il PNRR in maniera abbastanza sintetica si racconta del progetto mille esperti e poi dalla pagina del progetto mille esperti si può accedere a tutta una serie di dettagli su come lavorano gli esperti anche sul sistema di prenotazione di cui parlava la dottoressa Carota e il terzo elemento della home page è la spiegazione del portale quindi come è strutturato il portale e come funziona e l'home page è anche raggiungibile dalla sezione informativa informazioni scusate dopodiché ci sono invece ecco una serie di nel menu a sinistra della pagina del sito una serie di pagine specifiche vedete che abbiamo evidenziato qui la normativa la normativa è uno di quei casi di cui facevo menzione prima relativamente agli automatismi c'è una prima parte normativa europea e nazionale che si collega direttamente al portale Italia Domani che è il portale ufficiale del governo sul PNRR e c'è una parte di atti regionali che si collega al sito della regione marche dal quale sono appunto accessibili e visibili gli atti regionali poi si va avanti con la mappatura degli strumenti e qui non mi soffermo perché la dottoressa Carota ne ha già parlato volevo solo aggiungere che all'interno della mappatura degli strumenti ce ne ci sono anche vedete c'è un checklist linee guida e lì ci sono proprio i prodotti che sono stati elaborati dal gruppo di lavoro del portale tra cui abbiamo per esempio già pubblicato adesso una guida su come accedere alla piattaforma Regis che è uno dei grossi problemi che i soggetti attuatori incontrano quando cominciano a lavorare con progetti PNRR e un'altra guida sull'uso dei loghi nei progetti finanziati dal PNRR altri strumenti e altre guide sono in fase di elaborazione poi c'è la sezione dedicata alle sei missioni del PNRR delle marche e anche di questo abbiamo già parlato c'è una parte dedicata ai bandi e agli avvisi e questa parte funziona nuovamente con quell'automatismo di cui parlavo prima quindi bandi e avvisi nazionali ci si collega direttamente alla pagina del sito Italia Domani bandi e avvisi regionali c'è il collegamento alla pagina di regione marche su cui vengono pubblicati i bandi e avvisi regionali dopodiché abbiamo la pagina di notizie ed eventi e anche questa ovviamente fa riferimento a notizie ed eventi di quello che accade sul territorio regionale nel territorio regionale in merito al PNRR l'ultima sezione che vedete qui è l'area monitoraggio e su questa io adesso passo la parola invece all'ingegner Sturari grazie buongiorno a tutti quanto riguarda la sezione di monitoraggio con le lavorazioni delle varie fonti informative già citate quindi sia fonti Regis che fonti dei nostri dipartimenti abbiamo sintetizzato un complessivo di risorse PNRR e PNC di circa 3 miliardi e 6 poi di queste risorse molte corrispondono già a progetti attivati sul territorio regionale di cui la regione Marche per una quota parte è direttamente soggetto attuatore qui potete vedere la ripartizione delle risorse tra le varie missioni del PNRR e trovate una voce PNC laddove le risorse PNC non erano direttamente classificabili all'interno di una missione di una componente del PNRR questi sono gli stessi dati che poi trovate all'interno della piattaforma qui vediamo uno spaccato delle varie componenti e missioni tra quali per esempio emerge gli investimenti sulla rete ferroviaria con un importo importante dovuto agli interventi sulla orte falconara come già stato detto stiamo completando l'integrazione con il sistema Regis con l'obiettivo di mettere a disposizione ulteriori visualizzazioni rispetto a quelle complessive delle risorse per componente e missione ma anche per tipologia di soggetti attuatori con la localizzazione dei progetti per provincia e comune e sullo stato di avanzamento dei progetti su questo qui stiamo lavorando con il MEF l'assistenza tecnica PNRR per riuscire ad avere questi dati il più possibile in tempo reale e avere un monitoraggio il più possibile diretto io avrei concluso bene grazie prima di lasciare la parola al presidente per le conclusioni vorrei solo fare una sottolineatura che è emersa negli incontri e cioè che il valore aggiunto distintivo di questo portale è che riconduce ad unità informazioni che sono frammentate nel senso che il PNRR ha una struttura definita ma i soggetti attuatori del PNRR sono molteplici enti locali comuni vedete nei dati che la regione ha una quota minimale come soggetto attuatore quindi spesso c'è una difficoltà ad avere una visione d'insieme del montare di risorse e della tipologia di interventi che ricadono nel territorio regionale questo portale è un unico strumento di accesso che consente di avere un quadro informativo e semplificato di tutte le risorse che ricadono nel territorio e la conoscenza come tutti sappiamo è uno strumento fondamentale anche per programmare e per governare questa opportunità lascio la parola al presidente grazie dottor Becchetti ma il mio è solo un intervento dei routine di ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo portale lo ringrazio l'assessore tutto il dipartimento personale interno esterno e ringrazio soprattutto perché questo è un portale importante non solo dal punto di vista tecnico per il monointoraggio e per tutte le altre funzioni che abbiamo appena ascoltato ma credo che possa essere molto importante perché dal punto di vista comunicativo riesce a mettere con facilità in comunicazione tutta la comunità di portatori di interessi ma non solo di portatori di interessi anche dei nostri cittadini rispetto a quello che è l'impatto del PNRR e del PNC sul nostro territorio regionale questo è importante perché aiuta a costruire una sensibilità ma soprattutto aiuta ad identificare ciò che significa nella regione Marche PNRR e in quali progetti noi siamo impegnati credo che sia importante sottolineare la percentuale molto bassa dei progetti per i quali la regione Marche è soggetto attuatore parliamo di una percentuale se guardiamo il numero dei progetti che addirittura è intorno al 5% se guardiamo le risorse è sotto il 10% però è chiaro che il numero complessivo attuale delle risorse è di 2 miliardi e 700 e oltre 2 miliardi e 700 milioni quindi si tratta si trattano risorse sicuramente molto importanti soprattutto su alcuni progetti quelli delle infrastrutture quelle della sanità che possono aiutare e sostenere una sfida complessiva a cui noi guardiamo con estremo interesse oggi c'è una fase anche di ridiscussione del PNRR siamo in attesa di comprendere quelle che saranno le evoluzioni di questa discussione i tempi le modalità di adottazione e la possibilità di essere maggiormente coinvolti rispetto a quello che siamo stati in passato credo che tutte queste sfide siano fondamentali però è necessario indispensabile comprendere l'impatto attuale e molto spesso anche di cosa parliamo perché poi nella realtà molti nostri cittadini ma non solo cittadini anche portatori dicevo di interesse quindi categorie corpi intermedi nel comprendere l'impatto complessivo e laddove questo impatto complessivo va realmente a interferire e a agire non c'era e non c'è chiarezza questo strumento aiuta in questo senso bene se ci sono domande dei giornalisti bene significa che è stato tutto chiaro grazie a tutti i partecipanti a tutti i soggetti che sono collegati grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri ibly